Stattami a sentire imbrannati, sono arci stufo, le vostre continui pasticci, siete del buone nulla, mi allontano dieci minuti e voi ho incominato un disastro. Veramente ci stavamo allenando per diventare dei bravi moschettieri? Moschettieri? Questa è buona. Ma lavoreremo con impegno e vi daremo prova di noi capitano Pietro, e poi ci nominerete moschettieri. Dunque ci sono tre cose che non vanno, uno, tu sei un codato, due. Spiacenti, il numero selezionato non è attivo. Ah, tu sei un babbeo, e in quanto a te, che dire, sei decisamente trompo corto. Sappiate che non vi prenderei mai come moschettieri, neanche se voi pregoste le lune, ti mai reclutete la mia toranta Francia. Perciò non ti serve questo cappello. Già. Tira il piccino, gioca a palla. Gioca a palla, questa è buona, non me devo ricordare dei moschettieri. Assolutamente è da parte di la mia torta Francia. Grazie.